Come voi avrete già capito, dobbiamo tenere, mantenere il più possibile, salere... Sto scolando il voto, vero? Sì, sì, sì. Dobbiamo tenere la sua identità in nascolto. Perché, diciamolo, il signore è presente che chiameremo... Non possiamo chiamarla... Trepuzio. Chiaramente userò un nome assurdo. Eh no, proprio come si chiamava. Eh no, un cellulare Trepuzio. Perché è stato un cazzo? Non so. Sì, il signore Trepuzio è un pentito. Sì, non... Cioè, ti devo correggere perché sono doppiamente pentito. Cioè, io sono pentito di essermi pentito. Attenzione, attenzione, dobbiamo stare bene a te, perché... Verremo, verranno le luce fatte, le nuove stranche, eh? Sì, la cosa è l'oltre. E' meglio così. Vedi una segreta? Eh, però così non m'ha mai visto. Grazie. Grazie. Grazie.